In principio era una lattina, forse una scatoletta, una vaschetta o magari un sottile foglio d'alluminio, chissà. Una semplice lattina potrà trasformarsi in un'altra lattina, oppure tutti insieme potranno diventare una pentola, una moca o una bicicletta. Perché l'alluminio si ricicla al 100% e all'infinito. Grazie a voi e alla raccolta differenziata. Grazie a voi.